Ciò che presenterò a proposito della conservazione è un punto di vista un po' particolare, il punto di vista dell'aromatiere. Presenterò un metodo che è noto ai più, ma che è stato studiato appunto per allungare la vita dell'olio. Il punto di vista dell'aromatiere quale sono, e avrò modo comunque di spiegarlo nel dettaglio nel corso di questa presentazione, che dovrò fare abbastanza velocemente, perché le cose da dire sono tante e io non ho il dono della sintesi. L'olivo è sempre stato simbolo di rigenerazione, di speranza, di pace, ha accompagnato l'uomo mediterraneo per millenni. Si hanno tracce archeologiche di Frantoi del 4000 a.C., ritrovati nell'altopiano iraniano, vediamo se riesco ad accendere il puntatore, eccolo qui, nell'altopiano iraniano, nei luoghi dove si sono sviluppate le civiltà come quella degli egizi, dei babilonesi, dei fenici. Furono proprio questi, i fenici, grandi navigatori, a diffondere la cultura dell'olio d'oliva in tutta l'area del Mediterraneo, in quella zona che gli antichi romani chiamavano Mare Nostrum. Ho disegnato sulla mappa anche questa linea di demarcazione, questa qui è una mappa che ho disegnato leggendo la storia dell'ulivo e la sua diffusione, e su questa linea delimita la coltivazione dell'ulivo, non tanto per fattori culturali, ma più che altro per fattori climatici. Di fatto, al di sopra di questa linea, l'ulivo non attecchisce. Lo troviamo però diffuso a partire dalla scoperta del nuovo mondo in regioni come il Perù, il Cile, l'Argentina, la California. Anche la Cina, nelle regioni del Gansu e del Sichuan, ha incominciato a coltivarlo da diversi anni. La storia dell'ulivo è coinvolgente, appassionante, ma richiederebbe un capitolo a parte. Andiamo avanti, facendo solo una breve tappa per indicare i luoghi dove viene maggiormente prodotto. Parliamo ovviamente di quantità e non di qualità, due cose ben diverse. La Spagna con i suoi 9 milioni e più di tonnellate si assesta al primo posto. L'Italia, che viene subito dopo, con quasi 2 milioni di tonnellate, è quella che a mio parere supera di gran lunga per qualità il resto del mondo. Di sicuro la fascia del Mediterraneo si può definire la più grande fabbrica del mondo di olio di oliva. Come ho già detto, questa presentazione ha un punto di vista particolare, cioè quello dell'aromatiere. Gli aromatieri, per chi non li conoscesse, sono spesso confusi con i profumieri. Siamo entrambi nasi, ma i cucini profumieri realizzano per l'appunto profumi o fragranze, che però non si mangiano. Gli aromatieri sono invece scienziati specializzati nell'analisi delle sostanze responsabili delle sensazioni di gusto e olfatto negli alimenti. In sostanza sono in parte chimici ed in parte artisti e sono in grado di monitorare, modificare o caratterizzare qualsiasi tipo di alimento. Ecco allora che dal punto di vista dell'aromatiere l'olio di oliva assume una connotazione sensoriale particolare. I grassi generano la sensazione di unto in bocca, oggi parliamo di olio gusto, il sesto gusto. Le componenti minori sono responsabili del gusto di amaro o piccante ed infine la parte edonistica per eccellenza, ovvero l'aroma, che è dovuta ai composti volatili. Ma vediamo nel dettaglio in che modo sono riportati nell'olio di oliva. La parte preponderante è quella grassa, costituita principalmente da trigliceridi. Poi abbiamo una piccola parte di gliceridi e monogliceridi. Tra questi ci sono composti minori che costituiscono solo l'1% della totalità, ovvero 10 grammi di questi composti per ogni chilo di olio. Facendo esplodere questo 1% dei componenti minori, notiamo che a loro volta sono composti da altre sostanze che caratterizzano gli oli di eccellenza, soprattutto per la presenza della parte fenolica, dei tocoferoli e degli steroli. Di fatto quando degustiamo un buon olio extravergine di oliva andiamo a ricercare il gusto amaro dovuto all'oleo europeina oppure quello piccante dell'oleo cantale. Vi faccio notare che in questa frazione, che è già l'1% della precedente, c'è un'altra che è di nuovo l'1% e che è costituita dai composti volatili. Facendo gli opportuni calcoli, quindi in 10 kg di olio di oliva la frazione volatile pesa approssimativamente solo un grammo e in questo grammo è racchiuso tutta l'aroma di ben 10 kg di olio. Facendo esplodere quindi ancora, questo sembra una matriosca ma è così, quell'1%, scopriamo una molteplicità di sostanze chimiche responsabili del profumo dell'olio. In totale questa frazione è costituita da circa 70, massimo 80 componenti. Sappiamo che vengono generati principalmente durante la gramolatura attraverso alcune attività enzimatiche tra le quali l'ipossigenasi. Comprendono alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e in quest'olio in particolare che analizzai alcuni anni fa e che proveniva dalle colline del sud di Firenze, aveva una forte connotazione fruttata dovuta alla massiccia presenza di transduesenale, una molecola la quale assieme ad altre note verdi come il transduesenolo o il cistreisenolo, gli conferiva non solo la nota di mela verde ma anche quella di carciofo. Se analizziamo nel dettaglio questa miscela scopriamo che l'aroma di olio d'oliva è composto anche da altre sostanze come la 2-metilbutyraldeide che in purezza ha un odore di malto tostato e di buccia di cacao, uno si domanderebbe ma che ci sta a fare lì dentro. Oppure dalla benzaldeide che sa di mandorle amare, oppure ancora dall'unotentreolo che da solo ha una connotazione di fungo champignon, ne prendo ancora ad esempio uno che è l'alcol feniletilico che ha una connotazione marcatamente floreale di rosa, oppure c'è dentro la transdua e transquattro eptadienale e questa qui conferisce una nota di grasso. In sostanza tutte queste molecole miscelate assieme come in un accordo musicale ci fanno percepire l'odore di olio d'oliva, in questo caso un olio d'oliva tipicamente toscano. Questo progetto si chiama per l'appunto Violin, è della sede ideale per poter assimilare i composti chimici che caratterizzano l'odore di un alimento alle note musicali. Tante note, quasi infinite, per comporre qualsiasi melodia. Negli alimenti ad oggi sono state classificate circa 30.000 sostanze volatili. Ci si può perciò immaginare l'infinità di gusti che è possibile sperimentare con i nostri sensi. Pensiamo alla complessità di un raguola bolognese fatto con pochi ingredienti, ciascuno con la connotazione particolare, ma che tutti assieme, passando anche dalle reazioni di Maillard, compongono l'aroma caratteristico del ragù. Tornando però al nostro olio, una volta che lo abbiamo prodotto e i suoi caratteri di tipicità sono eccellenti, dobbiamo accertarci che rimangano tali a lungo e nel tempo. Da qui l'importanza della conservazione di questo patrimonio sensoriale che non coinvolge solo il produttore, ma tutta la finiera fino al consumatore. Se vogliamo che il nostro olio mantenga inalterate le caratteristiche organolettiche, gli aspetti nutrizionali e quelli salutistici che aveva al momento dell'estrazione, dobbiamo attenerci a regole importanti. Nel tempo l'olio perde il colore, il profumo e purtroppo insorgono anche note sgradevoli. Se ne era accorto anche Plinio il Vecchio, storico e naturalista, che circa 2000 anni fa scrisse nella sua Naturalis Historie, l'invecchiamento guasta l'olio e il sapore, a differenza di quanto accade per il vino e al massimo si può arrivare ad un anno. Di fatto, se mettiamo a confronto l'olio appena franto con quello dell'anno precedente, ci accorgiamo della diminuzione del gusto di amaro e piccante, dell'aumento dei difetti olfattivi dovuti all'ossidazione e di una drastica diminuzione delle componenti aromatiche correlate alla freschezza. Riguardo alla freschezza, a questo concetto farò un accenno più avanti perché è molto importante. Dal punto di vista legale, l'olio extravergine di oliva non ha una scadenza, ma un termine minimo di conservazione, ovvero viene indicato in etichetta da consumarsi preferibilmente entro una certa data. In effetti, mediamente trascorsi 18 mesi canonici, l'olio avrà perso circa il 50% dei polifenoli e il 70% del profumo che avevo in origine. Quali siano i suoi nemici, questo lo sappiamo tutti, sono l'ossigeno, il calore e la luce, i quali innescano singolarmente o tutti assieme dei processi di degradazione irreversibili. Volendo riassumere quali sono le fasi per ottenere un olio di alta qualità, dobbiamo anzitutto, prima della frangitura, mantenere le olive a temperatura inferiore ai 12 gradi e con una bassa umidità, conferirle al frantoio entro poche ore, trasportarle in apposite casse traforate. Durante la frangitura i frantoio moderni non superano i 27 gradi, è estrazione a freddo e addirittura le camere di gramolatura sono sotto vuoto, quindi si può tenere sotto controllo l'ossigenazione. è necessario alla fine del processo allontanare i sedimenti e l'acqua attraverso la filtrazione e dopo la frangitura, come si è detto prima, bisogna proteggerlo dalla luce, mantenere l'olio a una temperatura non superiore ai 15 gradi, evitare il contatto con l'ossigeno, le camere di stoccaggio hanno dei gas nobili al loro interno e scegliere contenitori adeguati per lo stoccaggio e trasporto della vendita, ma soprattutto bisogna avere la massima pulizia in ogni fase. Negli ultimi 50 anni la frangitura ha fatto passi da gigante, passando dalle molazze in pietra ai moderni frangitori che consentono di ottenere un olio ad alto contenuto di polifenoli e dai profumi eccellenti. Progettare un frantoio è oramai una scienza che coinvolge non solo l'agronomo, ma anche discipline come l'ingegneria, la biologia, la botanica, la farmacologia, la genetica, ma anche l'entomologia e addirittura recentemente si parla di cyber-meteorologia con le previsioni affidate all'intelligenza artificiale per fare trattamenti nelle olivete. Soffermarsi su tutti questi argomenti tecnici è affascinante, ma richiederebbe troppo tempo. Io voglio mettere l'accento soltanto su un punto cruciale del processo, che è quello della filtrazione. Infatti una volta ottenuto un buon olio, la prima operazione da effettuare alla fine del processo è appunto quella della filtrazione. Io capisco quanto l'olio torbo, come dicono qui in Toscana, abbia un suo fascino, ma rendere l'olio limpido significa allontanare l'acqua che contiene ancora molti microorganismi e l'ossigeno disciolto, composti che se presenti attiverebbero processi di degradazione irreversibili. Una volta filtrato, è bene non mettere l'olio in bottiglie trasparenti, ma preferire bottiglie in vetro scuro che proteggono dai raggi ultravioletti. Inoltre, dal 2014, è d'obbligo il tappo antirabocco per assicurare il consumatore che il contenuto non sia contraffatto. Oltre al vetro, l'acciaio è sicuramente il recipiente più adeguato. Esistono anche bottiglie in acciaio, ma il costo di questa confezione è ancora eccessivo. Spesso le troviamo in vendita nelle latte, ma immaginiamo come si ossida facilmente tutte le volte che prendiamo la latte per prelevarne un po', lo rimescoliamo e quindi lo ossigeniamo e lo roviniamo ogni volta. Alle latte sono preferibili i bag in box, nei quali una volta confezionato l'olio non viene più a contatto con l'aria, se non quando lo spilliamo dal rubinetto. Ecco, a questo punto vorrei introdurre il concetto di freschezza. Dove conserviamo un becetale o un frutto fresco? È noto a tutti che il freddo rallenta i processi degenerativi delle sostanze organiche. È possibile applicare questo metodo anche al nostro olio? È noto anche che per portare una molecola odorosa dallo stato solido o liquido a quello gassoso è necessario del calore. Di fatto lo possiamo sperimentare tutti quando, per esempio, annusiamo una minestra fredda da frigorifero. Questa risulta quasi in odore. Ma appena la mettiamo sul fuoco, in pochi minuti, la mobilità molecolare aumenta e quelle molecole che caratterizzano l'odore della cipolla, del sedano, del pomodoro, dei fagioli, si diffondono prepotentemente nella nostra cucina per poi essere catturate dai recettori olfattivi nella nostra cavità nasale. La congelazione applicata anche all'olio rallenta enormemente fino ad arrestarli sia i processi ossidativi che la perdita di quella piccolissima e preziosissima quantità di sostanze volatili che sono contenute nell'olio e che lo caratterizzano. Ricordate quanto ho detto poco fa? Abbiamo parlato di circa un grammo di una miscela di qualche decina di composti volatili su 10 kg di olio. Sono queste le sostanze da proteggere maggiormente affinché l'olio non perda la sua fragranza e i suoi caratteri di tipicità. Quando ho compreso a fondo questo concetto l'ho applicato all'olio nuovo, quello che compravo nel mese di novembre dopo le frangiture, però purtroppo il cassetto del freezer del frigorifero non mi è più bastato, tant'è che diversi anni fa mi sono munito di un freezer a pozzetto da 300 litri nel quale ho cominciato a collezionare l'olio di annata. Ad oggi dispongo di oli conservati 7, 8 e anche 10 anni fa, provenienti da varie regioni d'Italia e di diverse varietà. Quando mi serve una bottiglia sufficiente che la tiri fuori dal freezer, qualche ora prima direi che per una bottiglia da 500 ml bastano 6 ore a temperatura ambiente, per poi gioire, che so, di una nocellara del belice su una tartare di tonno oppure di un frantoiano nella zuppa di fagioli e cavolo nero che qui in Toscana non è altro che la ribollita. Siccome ho consolidato questa pratica per decine di anni, nel 2013 proposi agli amici dell'Università di Firenze di effettuare un test. Volevo anche smentire quello che si mormorava nel settore, ovvero che l'olio congelato e poi scongelato si degrada facilmente. Grazie all'interesse della professoressa Mulinacci e del suo staff portammo a termine uno studio che venne pubblicato nel 2015 e abbiamo dimostrato che un olio ad alto contenuto di polifenoli, perfettamente filtrato, una volta congelato e poi decongelato, a confronto con il riferimento aveva differenze veramente trascurabili nel profilo aromatico, dopo 12 mesi di crioconservazione. La differenza era però al contrario netta, confrontando il decongelato con quello mantenuto per 12 mesi alla temperatura costante di 20 gradi centigradi. La crioconservazione può quindi fermare il tempo dell'olio, per conservare un olio extravergine di oliva siamo passati dall'orcio in terracotta ai contenitori in acciaio. Perché non pensare al congelatore per gli oli e extravergine di oliva di alta qualità? Sarebbe una rivoluzione che il vino ha già fatto. Un primo rivoluzionario tentativo lo realizzai anch'io nel 2011 quando organizzai all'Impruneta, un paese in provincia di Firenze, una manifestazione che chiamai l'olio nuovo d'estate. Vi parteciparono 12 produttori toscani, tra i quali uno proveniente dall'Isola d'Elba e da alcuni sponsor del settore agroalimentare. L'idea era quella di far ritornare l'attenzione sull'olio in un periodo lontano dal momento della frangitura, diciamo 6-7 mesi dopo, presentando delle eccellenze che oltre ad essere molto gradevoli dal punto di vista sensoriale, queste si sarebbero potute freggiare del titolo in polifenoli sull'etichetta, in quanto al momento della scongelazione avrebbero avuto lo stesso quantitativo di polifenoli misurato al momento della crioconservazione. Io credo che con prodotti di questo calibro sarebbe addirittura possibile avviare delle sperimentazioni cliniche più precise basate sulle proprietà salutistiche dell'olio extravergine di oliva, in quanto i biofenoli e gli altri microelementi salutistici in esso contenuti rimarrebbero invariati a lungo, oserei dire addirittura per anni. È risaputo che l'olio extravergine di oliva di qualità rappresenta una nicchia di mercato e quindi il criolio con le sue proprietà edonistiche, nutrizionali e salutistiche potrebbe essere il fiore all'occhiello di tutti i cuochi del mondo oltre di coloro che intendono seguire sane abitudini alimentari. Un progetto particolare, ma mi piace pensare che prima o poi possa prendere piede e che soprattutto possa far rinascere la voglia di continuare a produrre olio di qualità a tutti quei produttori che purtroppo, sto constatando, stanno abbandonando le olivette perché non ce la fanno più a gestirle dal punto di vista economico. Questo è un vero peccato. Questo è il mio punto di vista, quello ambizioso di un aromatiere che ha trascorso molto del suo tempo a comprendere il segreto nascosto che caratterizza la freschezza dei cibi ed anche quella dell'olio extravergine di oliva di alta qualità nella speranza che un'innovazione simile diventi presto una consolidata tradizione. Grazie. 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 Grazie.